Davvero un grande personaggio è Sarah Nathan, davvero una grande signora, una grande intellettuale ed anche una grande viaggiatrice. Pensate, questa signora estremamente colta a un certo punto ha dedicato la sua vita, la maggior parte della sua vita ad andare in giro per il mondo a viaggiare e viaggiando a raccontare poi in un blog viaggi e pensieri che ha molto successo in cui racconta la sua maniera, le sue esperienze di viaggio e le correda di fotografie ed ora anche di piccoli filmati. Un personaggio del genere francamente non mi poteva sfuggire ed allora ho deciso di creare una collana tutta dedicata a lei e ai suoi viaggi. Che cosa c'è di meglio? Di sentire che cos'è l'aria, l'atmosfera, la cultura, la vita di un paese attraverso l'esperienza vissuta di una persona intelligente che viaggia con intelligenza e allora è nata la collana Seabook Go dove vengono raccolti in ebook soltanto per iTunes e in ebook multimediali i racconti dei suoi viaggi. Sono già usciti due titoli, uno dedicato al Cile, uno dedicato al Giappone, sta per uscirne uno dedicato al Gabon, quindi all'Africa e poi ne usciranno altri e tanti altri. Accanto a Sarah Nathan potremo viaggiare attraverso il mondo e vedere il mondo con il suo occhio curioso, colto e intelligente.